Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia e in studio Nicola Giannattasio. Sulla FIPILI per lavori due chilometri di coda in direzione Firenze tra Empoli e Montelupo-Fiorentino e un chilometro di coda in direzione mare tra Ginestra-Fiorentina e Montelupo. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza con restringimenti, percorsi alternativi sulla Provinciale 12 o per viaggi più lunghi sulla 11, tutte le info sui nostri canali social. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata e restringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in Pruneta. Sulla statale 1 Aurelia scambio di carreggiata per lavori tra Grosseto Nord e Grosseto Est. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!